Per favorire la crescita dei capelli è importante consumare cibi ricchi di acidi grassi omega 3 come avocado, salmone e noci. Le proteine sono fondamentali per la salute della pelle, delle uie e dei capelli. La vitamina E è un antiossidante indicato per migliorare il flusso del sangue, mentre la vitamina C favorisce la produzione di collagene. Il calore, ad esempio quello del phon o dei raggi solari, indebolisce i capelli. Utilizza prodotti come i termoprotettori per proteggerli al meglio. Gli elastici tendono a rovinare la salute dei capelli perché possono indebolirli o strapparli. Meglio optare per le forcine. Massaggiare il cuoio capelluto utilizzando ad esempio oli naturali è utile per stimolare la ricrescita e per eliminare residui che possono soffocare le radici. Spazzolare via i grovigli dei capelli direttamente sotto la doccia è una brutta abitudine perché li indebolisce e spesso ne provoca la rottura. Se decidi di far crescere i capelli potresti avere la tentazione di saltare qualche seduta dalla parrucchiera, ma se vuoi avere capelli sani e forti è necessario tagliarli comunque per eliminare fastidiose doppie punte e problemi cutanei. Grazie a tutti.